notturna si tira e porta a stazione del riguardo giusto per capire come funziona la situazione visto che siamo venuti qui qualche tempo fa insomma dagli elementi mi si è acceso il fuoco? per esempio pizza e guada ma si sa c'era acceso il fuoco sporo il fuoco Grazie a tutti. Grazie a tutti.